Finisce a Redi Bianche il match tra Ancona e l'Aquila, valido per l'undicesima giornata in serie di Girona F. Nella cornice dello stadio del Conero la partita tra i Rosso-Blu e i Bianco-Rossi è stata equilibrata e a pagarne le spese è stato sicuramente lo spettacolo. Minuti iniziali, chi hanno visto le due compagini giocare con un ritmo troppo compassato, una fase di studio che poi si è interrotta definitivamente al minuto 15 quando i locali hanno messo in apprezzione la difesa aquiliana con il tiro al volo d'esterno di Pecci che ha trovato però un Michelin reattivo. Al ventunesimo i Dorici hanno avuto un'ulteriore occasione per portarsi in vantaggio. Su un recupero Martiniello si è ritrovato in totale libertà sul centro-sinistra dell'area di rigore e da quella posizione l'attaccante con il 9 sulle spalle ha tentato di incrociare col mancino. La conclusione ha fatto la barba al palo per poi terminare sul fondo. Nemmeno un minuto dopo l'Ancona di nuovo vicina al vantaggio, questa volta con Alluci, bravo a recuperare un pallone a centro campo e partire in percussione. Arrivando al limite dell'area il suo destro non ha inquadrato per pochissimo la porta. Dopo la sfuriata bianco-rossa la partita è tornata ad assestarsi nel segno dell'equilibrio e il primo squillo rosso-blu è arrivato addirittura al minuto 41 quando Gueli dalla distanza ha fatto il solletico all'estremo difensore di casa. La ripresa ha visto immediatamente subito due emozioni con due reti annullate, uno per parte, appunto nei primissimi minuti, nell'arco di 60 secondi. Prima Belloni va a segno ma il direttore di gara vede un tocco con la mano, poi il colpo di testa dei bianco-rossi a cambiare il parziale ma alta è la bandierina del secondo assistente che annulla il tutto. L'Aquila 1927 va vicino al gol su un calcio d'angolo Brunetti, marcato stretto in area, riesce comunque ad impattare il cross di Banegas. La palla prende una strana traiettoria e per poco non si insacca sul palo lontano. L'Ancona risponde al minuto 17 con Belcastro, il 10 gira col destro l'ottimo invito di Pecci ma Michelin in presa bassa si fa trovare prontissimo. Di nuovo Rosso-Blu a sfiorare la rete al 31esimo del secondo tempo. Guido Baldi si avvente in scivolata su un disimpegno errato della difesa dorica, Bianchi con i piedi neutralizza il possibile gol di rapina. Nei quattro minuti di recupero non succede davvero più nulla e allora una gara che ha entusiasmato pochissimo termina sullo 0-0.